la passione tra sciai la gatta e lorenzo spolverato è innegabile ma negli ultimi tempi si sono insinuati dei dubbi a parlare di ciò è stata l'ex velina in una conversazione privata con la coinquilina julia sembra che la gatta tema che lorenzo possa provare qualcosa per elena o che comunque ci sia un interesse sopito tuttavia lui continua a lasciarsi andare a una passione sfrenata sotto le coperte confermando che l'attrazione fisica tra i due è forte nonostante tutto sembri procedere bene shayla ha confessato dei dubbi su lorenzo durante una conversazione con julia ha ammesso di aver commesso errori e di essere inquieta tuttavia si sente sicura di aver preso la strada giusta i dubbi riguardano l'interesse di lorenzo nei suoi confronti e il suo rapporto passato con elena shayla teme che lorenzo sia curioso di sapere cosa sarebbe potuto accadere tra lui e la prestes un nuovo indizio sembra sciogliere i dubbi di shayla durante una puntata di 361 lounge si è saputo che la coppia ha utilizzato ben 12 profilattici in una settimana questo ha sollevato polemiche ma ha anche aumentato gli ascolti del grande fratello cecilia capriotti e simona tagli hanno espresso perplessità sull'argomento ma la passione di shayla e lorenzo continua a far parlare di sé nonostante i dubbi e le polemiche la passione tra shayla e lorenzo è indiscutibile e continua a tenere alta l'attenzione del pubblico resta da vedere come evolverà questa storia all'interno